Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Un'ampia depressione atlantica è al momento stazionaria tra due potenti promontori anticiclonici, quello a Zorriano ad ovest e quello ad est sul comparto euro-asiatico. Una situazione di blocco dove l'Italia risentirà dei flussi caldo-umidi provenienti dal nord Africa, richiamati dalla suddetta depressione atlantica. Saranno possibili così precipitazioni abbondanti su tutto il nord-ovest, mentre sul resto d'Italia condizioni di tempo più tranquillo con ampi spazi soleggiati e temperature al di sopra della media. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 22 novembre. Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutto il territorio, con addensamenti più consistenti nel Tarantino, dove saranno possibili precipitazioni deboli tra pomeriggio e sera. Sul resto della regione basso rischio di fenomeni, se non qualche piovasco tra Bassamurgia e Materano. Temperature, come possiamo notare dalla grafica, in lieve aumento, con valori sopra le medie per il periodo. Venti moderati di scirocco, specialmente sui settori ionici, locali rinforzi anche sull'altopiano murgiano dal pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, mossi lo ionio e il basso adriatico poco mossi gli altri mari. Ed ora ecco la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Pierpaolo Asciano per questo suggestivo tramonto nascosto tra le nubi, ripreso dal bellissimo porto di Trani. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.